Salomon S Max 12 è uno sci ispirato alla linea race per sciatori e esperti che vogliono spaziare dai curvoni veloci alle curve strette con un raggio di 16 metri e 72 millimetri al centro nella lunghezza di 175 centimetri. Costruzione con nucleo in legno di pioppo, doppio strato di titanale tecnologia Age Amplifier SL. Sci hanno un profilo full camber. Salomon S Max 12 175 raggio 16 testato a fine giornata su neve abbastanza compatta è uno sci che mi ha dato delle belle sensazioni, è abbastanza intuitivo, la spatola è molto larga forse a bassa velocità tende ad agganciare un po' troppo, invece aumentando la velocità è preciso e stabile sicuramente il campo d'azione di questo sci è l'arco medio e consiglio appunto questo attrezzo a un L5 ma anche un L6 che vuole una prestazione senza esagerare troppo con il dispendio energetico uno sci che ho trovato maneggevole nel corto raggio e anche bello stabile anche ad alte velocità un pochino meno su neve dura e molto ripida, quindi lo consiglio ad un pubblico L5 anche L6 uno sci testato su neve compatta mi ha dato delle belle soddisfazioni soprattutto nei livelli di curve intermedie dove grazie alla sua geometria ho sentito un forte equilibrio sotto al piede e una buona facilità di rotazione, quindi uno sci molto maneggevole poi ho provato ad aprire un po' il gas e comunque è uno sci che non soffre tanto le alte velocità e ti permette di provare delle buone sensazioni anche in completa conduzione riesce a sciare in tutte le condizioni, ha una bella stabilità e soprattutto una flessione omogenea quindi anche chi non è molto bravo tecnicamente riesce ad apprezzare lo sci perché riesce in qualsiasi momento della curva a flettere la struttura e utilizzare la sua ciancratura mi è piaciuto soprattutto nelle curve medie, nello stretto è un po' più difficile, ha la spatola molto larga che rallenta un po' l'ingresso in curva ma poi quando lo metti di taglio ti dà un bel aiuto nella gestione della curva e quindi lo posso consigliare a un pubblico medio alto da livello 5 in su ma anche a un buono sciatore che vuole scendere un attimo di livello per godersi uno sci in tutta tranquillità è uno sci particolarmente tosto, su neve dura bisogna lavorarlo bene per farlo prendere di punta sulla spatola che è piuttosto larga però poi provato anche su neve trasformata, tendente al molle, qua di fine stagione bisogna riconoscere che è uno sci che ha delle ottime prestazioni comunque in tutte le caratteristiche consiglio anche a un pubblico di professionisti che trascorrono molte ore sulla neve che devono fare scuola o per persone che portano in giro insomma gruppi veramente una bella proposta molto entusiasta sono perché mi ha dato molte risposte un po' in tutti i livelli dalla curva sportiva diciamo alle 7 alla curva un po' meno sportiva alle 5 alle 6 in ingresso curva molto incollato a terra e devo dire che è uno sci consigliato a tutti gli sciatori di un buon livello che si avvicinano a un L5 e L6 grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti